Signori e signori, benvenuti in questo unissimo video Diverso dal solito, perché è un nuovo gioco Stiamo su un gioco, tra l'altro registrato, non estratto live Diverso da tutti gli altri giochi che ho portato Supermarket Simulator Non so che titolo ho dato, non so se era già spoilerato nel titolo, non lo so Comunque ragazzuoli, ci sono cascato, anch'io, in questo bellissimo gioco Un gioco molto chill, infatti sarà un video molto chill Non so quanto sarà lungo E spero che comunque questo video qua vi piace Mi raccomando fatelo sapere lasciando un like e anche un commentino Così capisco se continua con serie oppure no E così qua, benvenuto, o benvenuta, su Supermarket Simulator Inizierai con un piccolo negozio che diventerà un fantastico supermercato Inizio acquistando le merce, la merce scusate da vendere Posizionandola sugli scaffali, non dimenticare di fissare i prezzi con un approfitto Con un profitto per evitare la banca nota dove l'ho letto La banca rotta, buon divertimento Allora signori, come vedete qua è già, come si dice, c'è già una cosa che non è, che è cambiata E comunque come vedete posso personalizzare il nome Io basta che vado qua e spunterà uno store customizzato E il nome del nostro negozio sarà, boh, non lo so Allora, primamente metto Bernick Shop No, mi chiamo Bernick Shop, un classico nome Schrivo VNK Così Ok, abbreviazione del mio nome Colore Colore, signori Niente, lo stavo dicendo, colore, signori Arancione, ma l'arancione non c'è Questo qua non so cosa sia Vediamo, bianco ci sta Ma BNK è un po' BNK apostrofo S Così, giusto per mettere quell'English che non c'entra assolutamente niente Ok Vediamo, vediamo, vediamo Ok, ok Così, molto semplice Molto Non so cosa serve quella S lì, eh Ma l'ho messa giusto così per goliardia Poi magari molti Molti di voi, stai attenti Hanno visto che qua Ci sono dei numerini In questo caso è 0 E probabilmente sono i numerini È sempre una mod In cui ti dice quanti Quanti ne hai di questo prodotto qua Tipo queste qua sono i cereali Quanti cereali ho? 0 Poi quando avremo il magazzino Ci dirà anche la quantità di quanti ne avremo il magazzino Molto, molto interessante Poi altre varie mod Ve le dirò Do Cioè Mentre andremo avanti, ecco Adesso Detto ciò Direi di iniziare Ordina la merce Allora, sotto la mia cam C'è il Come si dice C'è Il tutorial Diciamo Comunque varie Varie cose Che dobbiamo fare A inizio Inizio Gioco Quindi Quindi seguiamolo Anche se il tutorial Non ce ne frega un cavolo Però ordina la prima merce Quanti soldi abbiamo? 50 Soldoni Ecco Ho appena preso la cosa più costosa Allora Non so cosa prendere Uno di tutto Mi sa che è un po' tumace Poi io prenderei Pasta Sicuramente Zucchero Che è quello che costa un po' meno Farina Che è quello che costa un po' meno Questo ok E Cazzo un po' troppo Ok Lo togliamo L'olio Togliamo l'olio Stavo dicendo Ecco E neanche così va bene Cos'è che possiamo togliere? Togliamo Ci servono 6 euro Togliamo questo qua Vai Acquistiamo Acquistiamo queste prime cosette Ok 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 Con molta calma Ah ecco Un'altra mod È che probabilmente Le scatole Me le mette In ordine di grandezza E quelli che sono nella grandezza giusta È uguale Scusate Me le metterà uno sopra l'altro Così È totalmente Più comodo Sono piccole mod Che tanto potete avere Cioè volendo Posso anche non tenerle Eeeh Però Ho deciso di Di far così ecco Ma aspetta un attimo Ma devo mettere i prezzi ancora Eeeh Ti piacerebbe zio Allora Chiudo la cassa E l'apro Magari si Baga Perché il bro Guarda i prezzi Eh Faccio comprare roba gratis Pezzo di merda Madonna Guardate quanto 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 Come si dice Quanto resto devo dare Tantissimo Allora Facciamo così Facciamo così Un po' troppo Esagerato Ma quanto resto Ah no ma vaffancuscolo Ma guarda quanto resto Devo dare Ok calma 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 Sono molto confuso Allora raga E ditemi anche Raga vi sto riempiendo Di tutto e di più Se avrete questi video Lunghi oppure corti Non so quanto Quanto diventerà lungo Questo qua Un pochettino Sicuramente Un pochettino Sarà lungo Però Non lo so Non lo so di quanto Ecco mettiamola così Raga comunque Obiettivo di oggi Dieci Livello dieci E comprare il cassiere Ci starebbe Spaccherebbe Sincero Già una licenza Ci sta Però Provate un attimo Da vedere Da vedere Vediamo un attimo Sa che te Quindi mi sa che facciamo Oh cavolo Troppo E vediamo un attimo Ci facciamo ancora Un po' di soldi Mi sa che a questo punto Dopo questa giornata O forse anche a metà giornata E poi direi di Comprare una licenza Ecco perché no Mi sembra Più conesto Tra l'altro Il mio consiglio è Fullare sempre tutto Finché non ci sono i clienti Così Bello pulito Bello ordinato Sempre essere ordinati Secondo me Così è più facile per voi E teoricamente È più facile anche per i clienti Dico teoricamente Perché non è così Sono dei cazzo di bot Quindi frega In cazzo Però comunque È sempre più bello È più ordinato E ok L'obiettivo è sempre Acquista una licenza Ci sta Da vedete Zaccate Oh Il bro Quanto cavoli di zucchero Ho ordinato Niente c'è buggato Oh fratelli Con molta calma Zaccate Dammi un secondo Il tempo di arrivare Zio cantante Zaccate Olè Bomba 20.9 No mi siamo un po' to match 200 E Ma raga Ma se dono il resto A un centesimo alla volta Non so Perché mi è venuto in mente adesso Do il cent E do il resto A un centesimo alla volta Quando uno mi fa un bel restone Lo voglio provare Voglio provare a farlo Secondo me ci sta Tipo vabbè Questo qua è un euro Cioè sti cazzi Voglio vedere quanto tempo ci metto Ecco Facciamo così Sta a vedere Secondo me è mica Spacca Tipo non so Magari adesso Niente adesso Niente Fica come niente Allora ho ordinato Tipo 7 euro di roba Vabbè In mano 20 euro E 10 euro E ho ordinato 7 euro di roba Ma va bene così Grande gioco Grande Grande gioco Grande Grande Come si dice Facciamo così Facciamo così Volevo vedere qua quanto costa Ah ecco No quanto costa Volevo vedere Assunzione 110 su 200 clienti Beh potrebbe essere tanto fattibile raga Facciamo una cosa Facciamo una cosa Adesso dopo questa giornata qua Prendiamo la roba E proviamo a arrivare La roba sarebbe raga Come si chiama Le La licenza Ecco la licenza Prendiamo la licenza E poi magari Potremmo appuntare Al cassiere Vediamo un attimo raga Signor Ottoli Ce l'abbiamo fatta Fine giornata Livello 6 Tra l'altro Giorno 5 Bomba te Quanto mi ha fatturato Beh 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 520 euro Allora pasta Pane a fette E zucchero Allora tra l'altro sono abbastanza secco Pasta 350 Ok Pane Pane No Sono un pirla Mi ha chiamato pirla Proprio con la P maiuscola Porca troia Facciamo così Anche doppio E anzi un po' tutto Mi sa Esatto Facciamo così Facciamo così Facciamo così Devo solo dire Tipo adesso Tipo adesso Non dobbio E va bene Nel caffè abbiamo capito Che costa tipo tantissimo Però Almeno ci fa fare Un guadagno bello Elevato Ci siamo Ci siamo colleghi Scusate Devo mettere tra l'altro Un'altra luce Perché non vedo una minchia Ma spenderò soldi Per una luce No Perché Perché spenderò Spendo più Più delle fatture Quindi niente Cosa mi piace Il caffè c'è fratello Ma sei fulminato Niente Il caffè c'è L'ho messo Ritorno indietro Mi abbandoni Porca puttana Madonna Però te sei proprio scemo Guarda qua che roba Dio sono le nove E lei mi entra a quest'ora Ancora anche l'altro Sti cazzo di muscolo Di figa Vi tirano un ciaffone Voglio vedere se non Se non uscite fuori Mannaglia a voi Cioè così Guarda E poi arriva E paga con Chissà che Banconota Non l'ho manco visto Non ci fa toccato Mannaglia al cazzo E muoviti fratello Oh non mi ruba la roba Nella scatola Che quella lì è free Ma qua abbiamo messo tutti i prezzi Vero mica che ho trollato qualcosa E fratello potrei finire il giorno Senza che tu mi Senza che tu Prendi la roba sai Però no perché perdo soldi Vai vai a cagare zio Vai vai Bomma te E purtroppo due prodotti Non trovate Ci sta 232 euro Cazzo poco Facciamo così E signori Direi di fare The last one day Ok Ultimo giorno E poi si stacca Vedo che la giornata Che Qua la rec è già bella elevata Di Di minutaggio Ecco siamo a 5-7 minuti E avrò tipo Ho saltato tipo un giorno di Un giorno non l'ho registrato Quindi sarà più di un'ora Ecco Buttiamola così Quindi raga direi che A breve è ora di staccare Va un botta ruba Va un botta Oh ci sta qua in mezzo Gran figata Ok questa è farina La farina ci serve La farina ci serve Che l'hanno appena prese Colleghi Dove metto sta cosa qua Non so dove metterla Assolutamente La metterò tipo Qua dietro E avrò tutte le scatole Potrei mettere Assolutamente lì dietro Però va bene così Collega Si tranquillisi Non nelle sue emozioni Cioè nel senso Che più o meno Non è che sono così belle qua Però va bene così Vai vai Ok Facciamo così No Mi siamo un po' tomacce 9 20-25 Voilà collega Zie Allora forse lei E la gemella dell'altra È venuta prima Questa qua sta tipo Boh un'altra sorella Che non è proprio gemella Cioè è simile ecco Ci sta Spacca giustamente Sennò che ha gli stessi capelli Però colori diversi Hanno il vestito diverso Vedete Tra l'altro vanno sempre Sempre Eh cosa è che sto dicendo Vanno sempre nella stessa direzione In quanto appunto Sono sorelle Tipo Giustamente Giustamente Avete assolutamente ragione Ziette Ziette Cos'è che c'è qua Il caffè Madonna è caffè Oma Lo prendono proprio Di brutto il caffè Fratello è ora di acquistare Doppio caffè Ok È ora di acquistare Doppio caffè Va bene Va bene L'hai deciso te L'hai deciso te Poi la pasta Ci abbiamo La pasta Deve essere qua Tipo Però Esatto Devo dire anche la pastina Buona La frena ce l'abbiamo La frena 0-0 Facciamo così Questo eliminiamolo Ok 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 Facciamo così Zagate Zagate Ok Così magari è meglio E 56 Quella Questa cosa A me non mi deve ordinare Beh beh Stavo dicendo Mi deve ordinare abbastanza Che bello in gioco In cravatta Bello professionale Beh sinceramente Non è che ho ordinato così tanto Madonna è vero Che abbiamo anche il frigo Raga Mi ero letteralmente Dimenticato del frigo Oh cazzo amico Mi non diminuiamo il frigo Boom Beccati sta scatola Il formage De fromage Ok Ecco molto Beccati sta scatola Le uova Ok Questa va Se non te la becchi la scatola Vai qua sotto C'è la scuola Qua sopra Facciamo così Oh zio Vai mettiamoci qua sopra Zagate Il bro guarda Mi ha consumato tutto Ma quanto cazzo consumano Qua c'è qualcosa D'altro Non c'è niente Facciamo così Ok calma Calma Facciamo così Ok quindi ordinare E Acqua E questo E boom Devo anche accendere le luci colleghi Devo accendere le luci Devo accendere le luci Devo accendere le luci Devo pure pagare le fatture Se è per questo Perché le fatture Viste siamo già qua No lo pagherò dopo Ok Lo pagherò dopo Facciamo così Tac 5 Tocca te Tanto dovrebbe essere chiusa A quest'ora eh Se vado a Fancusco Per favore Enter Let's go Oh 27 clienti su 27 Proprio Soddisfatti 720 euro Guadagnati Allora Farina Non ho letto tutto Cazzo Sono un coglione 4.46 Mi sa che ci ho toccato Aprire tutti Ho letto solo acqua 2.55 Latte Latte no Uova Uova Non ho visto Uova no Formaggio Formaggio no Olio Olio no Pasta no Questo no Farina No Questo no Fratello Dov'è 5 euro Si è abbastato il prezzo Questo 5.84 Eh ci sta Ci sta Ci sta Perché Oh non vale 4 Non vale 4 Fratello Si sminchia tutto Fratello Non va più un cavolo Ehi amico mio Ok ok Calma calma Non mi andava più un cavolo Ok 54 I cereali Ok Il cereali a posto Caffè Ok Questo ok Allora direi di appunto Riempire un po' Non so che è successo Riempiamo un po' tutti i scaffali Così già la prossima volta Siamo proprio perfetti Ecco Siamo già belli a posto Questo qua buttiamo Possiamo buttare Ok facciamo una roba simile Riempiamo un po' tutti i scaffali Zagli Così poi capiamo Cos'è che manca Noi c'è ragazzuoli Grazie mille per la visione Vi ringrazio tantissimo Spero che questo video vi sia piaciuto Se non è durato parecchio Grazie mille della visione Noi ci vediamo Veneti prossimo alle 14 Con un prossimo video Non so ancora che video sarà Dove c'è ragazzuoli Vi ricordo che ogni lunedì Mercoledì venerdì Alle ore 19 Mi troverete Mi trovate in live Su Twitch Ogni giorno troverete uno shorts E ogni sabato Troverete un reel Sul mio profilo Instagram Dove c'è ragazzuoli Grazie mille della visione Buona giornata O buona serata Dipende quando stai guardando questo video Dove c'è ragazzuoli Ciao Grazie mille Ciao 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 Ciao